Uè Spillo! Amico mio! Arriva il periodo dei cocomeri, dei piselloni, il cocomero lungo, il cocomero tono e i fichi, il periodo dei fichi buoni, specialmente al sud. Spillo! I fichi dolci buoni! Poi c'è il fico d'India, quello con le spine, Stella! Quello con le spine, Stella! Gufate! Non vi resta che l'ultimo respiro! Gufate, Stella! Gufate! Dai tutti insieme! Dai la grande curva bianco-rosso-nera! Dai, dai, Stella! Dai che ci portate bene! E come disse il pelegatto, come disse il pelegatto, non metto il video perché c'è lui che parla con un microfono Sky Sport e non si sa mai! Non lo metto più! Ehi! Dai! Adesso ci sono anche le more, le more nere, le pesche, ci sono tutti i frutti di stagione freschissimi, Stella! Dai! Dai! Gufateci, Stella! Dai! Gufateci! La devi ciappannecchè! 4 su 5! Umiliati! Presi a calci nel culo! Dai che ti abbiamo preso a calci nel culo! Cosa ti aveva detto il nonno, se ricordi? Da Natale! Attenzione che quest'anno saranno schiappi! E poi, siccome che io seguo Max, il... il cobone là... Allegri resta! Allegri resta! Allegri resta! Allegri! Allegri! Tutta la vita! Tutta la vita, Babaluba! Tutta la vita, Allegri! Guardami, Spillo, guardami! Guardami, 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 guardami bene, 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 guardami il fegato stelle andiamo a prendere un bel caffè